ale 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 milanale forza notta vincerai non ti nasceremo mai ragazzi siamo ancora lì un'altra vittoria importantissima che ci laurea che ci laurea e non è che tanto conti campioni d'inverno da una decina d'anni in questo campionato che ha tanti segni del destino e se va come dico io vi dirò tutti i segni del destino che chi mi conosce in privato lo sa io parlo questo campionato ha molti segni del destino nonostante gli arbitraggi indegni le vergogne perché anche oggi è stato dammonito un mio diffidato sapete quando finirà questo questo scembio questo scembio di arbitraggio alla cazzo di cane per squalificare i giocatori del milan quando inter juventus roma o napoli saranno in testa alla classifica ovvero molto molto difficilmente ma se dovessero andare in testa alla campionata al campionato una di queste tre squadre una delle altre squadre che non si alminano finalmente finiranno questi arbitraggi allo scembio allo schifo perché oggi romagnoli è stato ammonito al primo fallo al primo fallo invece i giocatori del cagliari hanno menato tirato zambate gomitate schifo entrate da dietro manco un giallo i miei alla prima scorreggia salemakers i gialli purtroppo sono meritati tutte e due perché ci stanno e però si poteva usare un minimo di buonsenso l'ho appena ammonito poteva anche lasciarlo stare si poteva usare il buonsenso ma il regolamento viene applicato alla lettera solo contro di me gli altri c'è elasticità buonsenso intelligenza arbitrale intelligenza al milan dobbiamo penalizzarlo a qualunque costo far andare in prima posizione l'inter e poi abbiamo fatto il nostro compito quindi finché non ci sarà il sorpasso non finirà questo scembio di arbitraggio indegno che continuiamo a vedere alla cazzo di cane proprio detta proprio alla alla burdala maniera visto che vi schifate tanto per il rigore dato a svatani fraimovic io vi dico col cuore in mano che si può dare il rigore al zio perché zio viene si mette davanti viene spinto e nessuno attaccante su questa faccia della terra difficilmente rimane in piedi se viene spinto dall'avversario che gli che gli para davanti e lo spinge per terra scordatevi che zio svatani fraimovic ha detto una palla va preso in giro che lasciava i rigori e non le tirava più ci ha preso per culo a tutti è tornato a tirarle di nuovo e state tranquilli che adesso difficilmente ne lascerà qualcun altro a frank che si ci poteva stare il rigore su sottili visto che vi schifate tanto e vi schifate e dite che ci favoriscono e stiamo rubando un campionato ma visto che il metro è alla cazzo di cane non danno il rigore al cagliari perché non sanno nemmeno loro che il regolamento stanno adottando visto che il juventus inter non viene ammonito doveva essere risparmiato già alla barella se c'è la nuova regola del vantaggio e manzi il betangur non viene spulso in juventus mina forse nemmeno gli stessi direttori di gara sanno che il regolamento stanno portando avanti ci poteva stare riparisco il rigore per 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 il cagliari ma alla fine il cagliari a parte quello non ha fatto niente nessuna nessun miracolo di gigio donna quindi alla fine è stata una partita in controllo se non si inventava se non veniva espulso sale makers se non veniva espulso sale makers che ribadisco si poteva usare un po di buon senso l'ho già ammonito una volta lasciamolo passi può restare in campo no argomento argomento regolamento applicato alla letra poi voglio vedere se con la maglia di qualcuno veniva ammonito qualcuno ai tempi di calciopoli disse disse quando diceva ma gli chiesto eh ma i giocatori della juve vengono sempre ammoniti luciano moggi in diretta tv disse e questo me lo ricordo bene non tutti non tutti i falli dei miei calciatori sono da giallo e non fu ammonito nessuno questo vi fa capire il sistema che vinceva allora e che purtroppo vince tuttora che se tiramenti ottieni questo è il classico schifo che io non vorrei mai ma purtroppo sei costretto a a farlo per il resto è tornato zio e si vede è tornato zio è tornato zio e per io invece già ne sta soltanto al 40 barra 50 per cento di quello che può fare che se torna quello prima dell'infortunio è meglio che vi scappiate perché già sta in condizioni buone ma non eccelse e ha stravinto il duello con godin per ciò che riguarda i promossi o i bocciati bene tutti forse sarebbe che si diamo un 4 per l'espulsione perché essere un po più intelligenti visto visto l'andazzo arbitrale meglio evitare certe certi falli ripetuti era meglio lasciarlo andare il giocatore del del Cagliari bene me te quando è entrato non mi è dispiaciuto e e bene l'approccio della squadra che anche in dieci voleva continuare a offendere cioè voleva continuare a giocare in maniera propositiva voleva continuare a tenere il pallino del gioco Cagliari poca roba poca roba però così non si ci salva perché bisogna bisogna dare una sterzata adesso si gioca sabato alle 18 con l'Atalanta in contemporaneo con con chi gioca a Udine con chi gioca a Udine senza Romagnoli ammonito alla prima scorreggia al primo fallo che neanche così evidente come come sembrerebbe poi i giocatori del Cagliari hanno menato picchiato e e e e falli a profusione e manco un giallo siamo primi siamo primi siamo campioni d'inverno ripetisco per me non conta un cazzo perché conta essere campioni a maggio però visti l'andazzo degli ultimi anni è una bella soddisfazione step by step e andiamo avanti e andiamo avanti verso il nostro sogno il nostro sogno se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale di mister blogger ciao a tutti